Siamo al convegno Sostenibilità e Salute per una città nuova con Mario Baccini. Sostenibilità e salute, due parole tanto semplici quanto complesse per una realtà come Fiumicino. Sì, sono due dei dodici pilastri del nostro programma. Oggi presentiamo il manifesto sulla sostenibilità e sulla salute per una qualità della vita nuova, per lo sport e il tempo libero. Cioè è un modello di vita che noi vogliamo proporre in questa campagna elettorale diverso da quanto in questi ultimi dieci anni è stato offerto da questa amministrazione comunale. Quindi presentiamo alle categorie, alle persone che vogliono intervenire questa nostra iniziativa per farla sottoscrivere, per dire chi siamo, cosa vogliamo e dove vogliamo andare. Salute è un concetto abbastanza comprensibile da tutti. Per sostenibilità cosa si intende? La sostenibilità significa cambiare completamente i modelli e attrarre nuove risorse con uno stile amministrativo, politico e di vita diverso. Sostenibilità significa quantificare le risorse in campo per una migliore qualità della vita con nuovi metodi tecnologici, culturali, un nuovo approccio con la natura e con il green.